Cari amici, buongiorno, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Quando dico fondamentali mi viene un po' da ridere se penso che voglio iniziare questa giornata con lo psicodramma di Repubblica. C'è da ridere, ma fino a un certo punto, perché Repubblica è stato il grande giornale italiano, come ricorda oggi un'intervista fatta a Francesco Merlo dal fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, è stato per un periodo, il periodo dopo la P2, il giornale che ha avuto il primato delle copie in Italia. E state attenti, quando nacque Repubblica con il suo formato tabloide, era un giornale che in realtà compravano anche persone moderate di centro-destra, anche perché il Corriere di quell'epoca non era certamente un esempio di limpida, come possiamo dire, informazione conservatrice. Ecco, mettiamola così. Allora, lo psicodramma nasce dal fatto che si stanno battibeccando due ottuagenari, o meglio, un ottuagenario che Carlo De Benedetti e un novantenne lucido come Eugenio Scalfari. De Benedetti in maniera poco elegante dice che Scalfari è un rincoglionito e Scalfari in maniera più elegante, oggi a Francesco Merlo gli ricorda ancora cosettine. Beh, la prima cosettina è che mi dice che sono vanitoso, dice Scalfari a De Benedetti, ma io trovo che forse sia più vanitoso chi pensa di essere un fondatore di Repubblica o un cofondatore di Repubblica, come pensa di essere Carlo De Benedetti, ma in realtà ci ha prestato 5 milioni o 50 milioni su 5 miliardi che servivano quando iniziò la nostra avventura e lui non ha fondato un bel niente. Beh, insomma, devo dire che per chi del nostro mestiere è appassionato a queste beghe di cortile, vale la pena leggersi Scalfari, una bella intervista di Francesco Merlo su Repubblica, val molto meno la pena di leggere Mario Calabresi che si qualifica sempre per quello che è un'acqua fresca o calda. Oggi una frase che mi ha colpito in un pezzo del direttore di Repubblica, direttore senza prove di Repubblica, tra l'altro scelto mi sembra proprio da De Benedetti, questo giornale deve molto Carlo De Benedetti, dice Calabresi, ma anche lui dovrebbe sentire un po' di gratitudine per noi. Non si riesce a capire perché De Benedetti dovrebbe sentire gratitudine per i calabresi, a meno che Calabresi non ci spiega che il giornale è stato, non so, ha secondato i voleri di De Benedetti. Qual è il motivo per il quale l'ingegner De Benedetti dovrebbe avere gratitudine per il giornale? Cioè, qual è il motivo? Magari spiegalo Calabresi se vuoi fare un pezzo una volta che qualcuno di noi capisce, ma Calabresi non ha proprio nel suo DNA spiegare, no, nel suo DNA forse c'era, ma nella sua attività giornalistica spiegare le cose come stanno. Sulle elezioni c'è un altro psicodramma, litigano tutti, nel centrodestra Salvini e Berlusconi litigano, tra l'altro Salvini fa una cosa straordinaria, trova, pensate un po' voi, chi posso candidare nel centrodestra per metterci tutti d'accordo? Quella signora simpatica che si chiama Buongiorno, che è la signora che ha votato la fiducia contro Berlusconi, cioè la sfiducia ai tempi di Fini e che considera il giornale di cui io sono vice direttore una macchina del fango e che riesce a dire una cosa talmente in controsenso, talmente straordinario, che uno dice, madonna mia, speriamo che questa non faccia ministro della giustizia, perché questo rischia di fare una signora senza arte né parte, cioè quella di aver fatto semplicemente un processo e da quello essere diventata la donna più famosa d'Italia, la paladina della giustizia, no? La Buongiorno, con quest'aria è sempre un po' diciamo che te lo spiego io come funziona il mondo. La signora, l'avvocato Buongiorno dice la nitidezza dei ragionamenti di Salvini, io penso che siano nitidi i ragionamenti di Salvini e fino a qua può anche andare bene il ragionamento, ma che si sposino, spiega lei, con il suo DNA andreottiano, adesso mi deve spiegare qualcuno cosa c'entri Andreotti con Salvini, se non è la testa dell'avvocato Buongiorno che cerca di mettere se stessa sempre al centro di qualsiasi operazione politica, come fece Confini in maniera maldestra e quando ci riempì di insulti. E poi chiedo alla signora, all'avvocato Buongiorno, scusi avvocato Buongiorno, lei vota alla sfiducia al governo Berlusconi e oggi si candida con Salvini che è alleato del governo possibile Berlusconi nei prossimi anni? Insomma, se per voi è normale ditemelo, io ho qualche dubbio. E ovviamente poi la giornata è scandita anche dalle divisioni a sinistra, l'intervista di D'Alema che ancora porta commenti, Ferrari eccetera, ma chi se ne frega ha lasciato il PD, dove già era un vecchio signore dell'establishment, va in un partito che prenderà il 5-6%, cioè i voti di rifondazione comunista, fa un'intervista al Corriere della Sera e pensoso oggi Ferrara ci scrive sul foglio e un sms a Berlusconi e Grasso gli risponde, la Boldrini gli risponde. Devo dire che D'Alema ha una grande capacità, non quella di avere voti, non quella di avere il consenso, ma quella di interessare molto l'establishment giornalistico che sta lì a parlare delle cagate che D'Alema partorisce sui giornali. Nessuno che dica come D'Alema ha cambiato idea, per esempio, sul TAP nel giro, cioè il tubo che lui voleva in Puglia e che nel giro di due anni per motivi elettorali ha cambiato idea. L'ho fatto io, lo ritroverete sul sito. La differenza per tabula, se si vede cosa diceva un'intervista a D'Alema due anni fa e cosa dice oggi sul tubo a Lecce. Trump, ne parlano tutti i mani, domani ci sarà il discorso dell'Unione, il secondo discorso dell'Unione, per fortuna che c'è Rampini, che non ama Trump, ma che non è neanche il critico, diciamo, cerca di ragionare. Beh, vi dico soltanto una cosa su Trump. Trump, grazie alla sua riforma fiscale, permetterà ai contribuenti americani di incassare 38 miliardi di dollari, il che vuol dire tre manovre finanziarie italiane, tre belle manovre da 10-12 miliardi, cioè quanto facciamo noi. Bene, 38 miliardi di dollari di tasse da una sola azienda, la Apple, perché ha previsto delle norme, intanto di riduzione fiscale, e poi di una sorta di condono dei soldi che avevano all'estero e che porteranno negli Stati Uniti 38 miliardi. Fatelo scemo, Trump e contribuenti americani. Nel frattempo ha convinto anche Marchionne a fare una fabbrica, a spostare una fabbrica in America. Comunque Trump è sempre un cretino, è sempre uno scemo, è sempre un Twitterolo pazzo, è sempre quello che ci hanno raccontato. Lo stesso Rampini riconosce oggi che, insomma, tutto scemo non deve essere visto i suoi risultati in economia. Tutti i scemi siamo noi che ancora continuiamo a pensare che le fake news debbano essere controllate dalla polizia. Dalla polizia! Cioè, la polizia si deve occupare delle fake news. Ieri c'era il ministro degli interni e il capo della polizia che hanno fatto il comitato per decidere se è una fake news. Ma allora vi sembra normale? Ma io dico destra, sinistra, centro, altro, ma vi sembra normale? Cioè, è in un mondo in cui veramente ti manca pannella, ti manca qualcuno che ragioni fuori dagli schemi, che non sia né di destra né sinistra. Ma mi sembra normale che ieri c'è un'organizzazione fatta dallo Stato che decide quali sono le fake news. Ma neanche Orwell, e lo dice bene, fantastico, oggi macioce sul giornale, questo si chiama Stato di Polizia. Cioè, se uno Stato, invece di occuparsi degli scippatori, invece di occuparsi delle tasse, invece di occuparsi dei confini, invece di occuparsi della politica estera, si occupa delle notizie eventualmente considerate da lui false. E chi lo decide che è false? Un prefetto? Un carabiniere? Un poliziotto? Chi è che decide che è una fake news? E quando le news sono borderline, certo, la foto finta della Boldrini, che dice che è la sua sorella, va bene, ci sarà un poliziotto che dice che è falsa. E invece, che ne so, l'interpretazione su quello che ha detto Genegliocchi ieri è vero, è falso? Ma ragazzi, ma siamo impazziti! Ma vi rendete conto? Bene, oggi, vabbè, travaglio per arrivare al foglio, al solito suo pezzo, devo dire che dopo una pagina me la sono rotta, in cui mi spiega perché l'Appendino e la Raggi hanno visi di garanzia che valgono poco. Invece Sala è un delinquente. Vi segnalo che l'Appendino ha un viso di garanzia per omicidio colposo per Piazza San Carlo. E mentre quello che è successo al Nogarin, cioè l'omicidio colposo di Nogarin, è per un'alluvione in una situazione che tutti sapevano essere un disastro da anni là, ma comunque poterla gestirla meglio, la Piazza San Carlo, la Sinnaca volava a vedersi la partita con l'Eretto, mentre invece mille torinesi se la guardavano in quella piazza. Ma comunque, queste sono minchiate. Le cose serie in un paese civile sono queste. È questa. Io ne ho parlato ieri in radio, così si vede male, ma ve lo voglio dire bene, condannato, ho fatto il mio dovere, non aveva timbrato il biglietto. Sostanzialmente è stato condannato un capotreno, oggi ne parlano poco i giornali, a Belluno, perché aveva usato, secondo il tribunale, mezzi troppo spicci, aveva fatto dichiarazioni troppo toste per un nigeriano, che va benissimo, però vi spiego perché è poi importante che sia nigeriano, che aveva obliterato il biglietto in ritardo e che tra l'altro non rispondeva, perché stava al telefono, all'ingiunzione di far vedere il pagamento del biglietto al capotreno. Bene, questo capotreno è stato condannato dopo due anni di giudizio, dopo avvocati che deve pagare, dopo rotture di balle, chiunque finisce la macchia, per abuso d'ufficio a 20 giorni di carcere, spero nell'appello. Ma la cosa sostanziale, fondamentale, che ci dice che è somma ingiustizia il nostro diritto di merda, è che questo capotreno è stato menato dal nigeriano, chiaro? È stato menato, schiaffeggiato dal nigeriano, è andato in ospedale, mentre è condannato lui per abuso d'ufficio. C'è un altro procedimento penale, quindi nei confronti del nigeriano, che ha menato il nostro capotreno, con un piccolo dettaglio che non si è concluso, e questo pazienza, ma che ligeriano sono due anni che non vive più in Italia, se n'è andato via, perché se ne fotte ovviamente, è venuto qua per poi andare da qualche altra parte. Allora questo è il nostro paese, che se c'è un capotreno che fa rispettare a una persona bianca, nera, gialla, viola, non me ne fotte nulla, e viene condannato per abuso d'ufficio, lo stesso capotreno viene menato, quel processo invece non si conclude, e anche quando si concluderà il nigerano, perché è un caso di immigrato, in questo caso non è più nel nostro paese, quindi non sconterà la pena. Questo è il paese della signora Buongiorno. Chiaro? E non ce l'ho tanto con lei, anche se c'è una questione, diciamo di sua... Cioè mi viene da ridere, mi viene da ridere come veramente valga tutto, valga tutto. Vale l'andreottiano che diventa leghista, poi vale l'andreottiana che diventa missina e che ci considera a noi la macchina del fango, vale il nigeriano che fa condannare il capotreno perché gli chiede di pagare un biglietto, cosa che noi esseri umani, normali, viventi in questo mondo di civiltà, dovremmo fare normalmente. Vi faccio un grande saluto e vi do appuntamento questa sera, come sempre, a 105 Matrix. Ciao!